eccomi qui sorpreso un po prima o poi sarei dovuta tornare no come prima cosa sei venuta qui si a riprenderti le due cose sei stante è stata una giornata il tuo editore mi ha detto che le vendite sono decollate prima del processo eri nota adesso se c'è forse cos'è successo piero ciò che hai fatto cosa ho fatto matilde cosa voglio che tu lo dica con parole tue non quelle del tribunale né quelle di giornalisti cos'è successo sapevo di essere solo quando rientravo non avvertire il suo odore su di me che ho odiato per questo ti manca ho chiesto se ti manca si e poi preferirei non parlare di raggiù laggiù si chiama casa circondariale carcere un luogo in cui tutto si ferma anche qui tutto si è fermato anche per me è stato difficile ma tu non hai freddo prendo delle medicine sto male male non colpevole male e vittima mi fa vomitare la tenerezza e tutto ciò che commovente io e te senza figli a passeggio mano in mano nel parco la tenerezza è ciò che rimane quando non c'è più niente e io voglio tutto tutto ciò che brilla che fa chiasso che urla non è facile uscire da laggiù ti preparo il letto in studio sì per favore prima che tu te ne vada dovremmo smettere di parlare e toccarci non toccarci non toccarci non toccarci non toccarci ma